Ciao a tutti ragazzi, è arrivato il momento di svelarvi dove vado. Io vado dopo sei mesi in Australia, mi sposto per questo weekend in Nuova Zelanda, più precisamente ad Auckland, mi fermo per un weekend e ci saranno delle sorprese, nel senso che non sto solo ad Auckland ma domani, domenica, ho un piccolo tour che toccherà due attrazioni della zona, diciamo così, anche queste per voi rimarranno segrete finché non guarderete il mio prossimo video, quindi ci vediamo ad Auckland in Nuova Zelanda e ciao! Ok ragazzi, ci siamo, sono ad Auckland, sono in ostello al momento, purtroppo nel volo non avevo il posto a finestrino, quindi ho solo una foto quando abbiamo cominciato a vedere la Nuova Zelanda che vi lascio qui, così potete vedere anche voi, perché era davvero uno spettacolo, purtroppo non ho potuto fare riprese appunto perché non avendo il posto a finestrino non mi era possibile e adesso vi faccio vedere un po' Auckland, quindi venite con me! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Se volete potete anche seguirmi su Twitter che sto cercando di capire più o meno come funziona. E io vado a dormire, ci vediamo domani, have a good life, ciao!